Ciao a tutti, il 22 giugno del 1941 la Seconda Guerra Mondiale prese una svolta nel senso che l'esercito tedesco, l'esercito nazista con a capo Hitler decide di dare via un'operazione che è passata alla storia come operazione barbarossa ovvero l'invasione del suo nemico principale di una grandissima superpotenza che era l'unione sovietica di Stalin e quindi la Germania il 22 giugno del 1941 con l'operazione barbarossa invase proprio l'unione sovietica che sarebbe l'attuale Russia allora c'erano anche i paesi tipo la Bulgaria, tipo la cecoslovacchia, tipo l'Ucraina cosa che adesso sono stati a sé e quindi prese una svolta importante la Seconda Guerra Mondiale da quel giorno perché poi per chi conosce la storia brevemente faccio un piccolo riepilogo l'invasione della Russia, dell'Unione Sovietica ha ottimi risultati per la Germania ai primi periodi, poi vi arriverà un temutissimo inverno e ci sarà una resistenza a Leningrado che sarebbe l'attuale San Pietroburgo da parte dell'Unione Sovietica che sostanzialmente ribaltò le sorti del conflitto e la Germania e Russia subì forse la sconfitta più grande della Seconda Guerra Mondiale Grazie